Marco Fantini, gaff social, c'entrano occhi di Bea Valli. L'influencer si è reso protagonisti di uno scivolone che non ha certo passato inosservato da parte di Selvaggia Lucarelli. Marco Fantini e Larry Blasi si sono resi protagonisti nelle scorse ore di una gaff social abbastanza clamorosa e curiosamente, anche molto simile. Ma cosa avranno combinato? Entrambi i VIP, molto diversi fra loro, ma accomunati da un notevole seguito social, hanno di fatto confermato di dover seguire delle indicazioni ben precise riguardo ai contenuti che pubblicano e che quindi di fatto, non hanno molto di spontaneo. Non che questo fosse un segreto di stato. Ben inteso, ma è interessante che entrambi siano finiti nella stessa trappola a poche ore di distanza. Con Fantini che ha fatto una figura davvero barbina. Ma cosa è successo? A segnalare la gaff di Marco Fantini è stata in prima battuta Selvaggia Lucarelli, che ha messo alla berlina il suo imbarazzante scivolone. Ieri sera il marito di Beatrice Valli è dovuto pubblicare sui social un post con alcuni scatti pubblicati in galleria Vittorio Emanuele Amigliano insieme alla moglie. Si trattava, nel caso specifico, di un post sponsorizzato dal noto marchio di gioielli su Arovischi. Con il quale Fantini sta collaborando. Come tutti i post a pagamento, in ogni caso. Ogni singola parola è stata calibrata per soddisfare il cliente, che ha poi dato l'approvazione al social media manager di Fantini. Quest'ultimo ha inviato all'influencer le parole da pubblicare, con un'indicazione precisa, ti inizio ad inviare proposte e copie per il post su Arovischi di stasera. Il bello è che nel post scritto da quest'altra persona c'erano anche specifici romantici riferimenti agli occhi di Bea. Invece di eliminare l'indicazione del social media manager, Fantini ha copiato e incollato tutto il corpo dell'email o del messaggio ricevuto. Facendo così crollare la sua maschera social. In breve, tutto quello che ha scritto non è opera sua e non è naturale e romantico come avrebbe voluto far credere. Qui sotto il post poi cancellato. Sizzes uguale, max width, 179px, 100w, 179pxsrc uguale data, image svg più xml, per 103 csvg per 120 xml e ns uguale per 122 http, due punti, slash slash, www. w3.org barra 2000 barra svg per 122 diviso per 20 vbox uguale per 100 220 diviso per 200 diviso per 20.179 diviso per 20.300 diviso per 22 diviso per 3 per cento 3 csvg per 103 e data data. Curiosamente, in un errore molto simile incappata anche Larry Blasi. Qualche ora fa il suo social media manager le aveva inviato i tag da utilizzare per una storia sponsorizzata a S.T. Moritz. Ilari ha però distrattamente mantenuto l'indicazione geotag, grazie alla quale avrebbe semplicemente dovuto tagare la struttura che la sta ospitando. Sizzes uguale, max width. 214px, 100w, 214pxsrc uguale data, image svg più xml, per 103 csvg per 120 xml e ns uguale per 122 http, due punti, slash slash, www. w3.org barra 2000 barra svg per 122 diviso per 20 vbox uguale per 100 220 diviso per 200 diviso per 20.214 diviso per 20.380 diviso per 22 diviso per 3 per cento 3 csvg per 103 e data data. Grazie a tutti.